Lo stop agli eventi fieristici causato dalla pandemia e la situazione economica mondiale che non ha reso conveniente effettuare fiere campionari o di settore in spazi di media dimensione impongono di ripensare all'utilizzo e alla destinazione d'uso del comprensorio espositivo di Gorizia. Il quartiere fieristico di Via della Barca è costituito da quattro padiglioni, tre con funzione espositiva per complessivi 6.520 metri quadri e uno con utilizzo amministrativo. L'area esterna dell'intero complesso è di circa 42.000 metri quadrati di cui una parte di proprietà della Camera di Commercio della Venezia Giulia è una in capo al comune. Il presidente dell'ente camerale Antonio Paoletti e il sindaco Rodolfo Ziberna hanno concordato sull'avvio di un concorso di idee per il riutilizzo della struttura. Creare un polo, creare un qualcosa che non sia un centro commerciale sicuramente ma che sia un polo di attrazione che porti gente, porti turisti e porti soprattutto giovani. Il Gorizia ha bisogno di giovani, ha bisogno di rivitalizzarsi, abbiamo una necessità, stiamo lavorando su quello ma c'è bisogno di più movimento per cui aspettiamo con gioia queste cose. Nel frattempo il sito sarà destinato al Gorizia 2025. In occasione di Go 2025 lo spazio esterno del comprensorio fieristico potrà essere messo a disposizione per eventuali iniziative mentre per quanto riguarda i padiglioni l'unico disponibile sarà il B con delle prescrizioni che prevedono la possibile realizzazione di eventi chiusi con un numero definito di partecipanti ma non completamente aperti al pubblico. Anziché imporre una soluzione che poi magari dal punto di vista economico è difficilmente sostenibile la cosa migliore è percorrere in parallelo entrambe le strade cioè una sorta di concorso di idee che naturalmente possono essere presentate anche in sprovviste di una particolare struttura e supporto in termini di elementi di conoscenza ma anche l'altro binario, questo sì, quello da parte di imprese. Cioè dobbiamo riuscire a capire come questo possa rappresentare un valore aggiunto per tutto il territorio che non è soltanto quello municipale ovviamente. Grazie a tutti.